Hanno preso il via a Messina gli interrogatori degli arrestati nell'ambito dell'operazione Gota 5 Ter che ha permesso di sgominare il clan delle nuove leve della famiglia mafiosa barcellonese. Ad ascoltarli il GIP Giovanni De Marco che su richiesta della procura della DDA di Messina ha firmato i provvedimenti nei confronti di otto persone di cui cinque già in carcere per precedenti operazioni. Dai dettagli dell'ordinanza emerge la caratteristica di particolare violenza ed efferatezza della condotta del clan che non perdeva occasione di ribadire la propria egemonia sul territorio. Una spregiudicatezza che ha raggiunto il culmine con i due gravi fatti incendiari, il rogo della discoteca Villa Ligà del 13 agosto 2014 e quello della motonave turistica Eoliedoro del 13 dicembre scorso. In entrambi i casi, allo scopo estorsivo, il gruppo criminale unì la volontà di ritorsione e dimostrazione di forza. La violenza del clan è stata quindi testimoniata dagli stessi pentiti che hanno spiegato agli inquirenti come il gruppo Munafo-Fria cercava di imporre il proprio dominio. Una violenza che ha provocato quasi due milioni di danni a imprenditori del settore turistico e del settore del divertimento. Imprenditori che oggi hanno delle risposte a quello che devono trovarsi di fronte quando ricevono delle minacce di estorsione. Si tratta di dare delle risposte concrete. L'arma in questo caso vuole, insieme alla procura di Messina, fare in modo che un imprenditore oggi sia sicuro e si senta sicuro di poter operare. Il gruppo controllava quindi il traffico degli stupefacenti nel territorio, un'organizzazione capillare di approvvigionamento e spaccio della droga custodita insieme alle armi da Tonino Biondo in un'officina di Portosalvo. Il traffico di droga è stato e continua ad essere un modo attraverso il quale l'organizzazione mafiosa immagina di approvvigionarsi di proventi economici. È certamente un'attività illecita che non ha mai cessato di esistere, è un'attività che in quanto tale viene continuata a essere registrata e non penso che questo abbia termine sotto questo aspetto.